Associazioni pronte a fare rete per battere le nuove povertà, si chiede anche l'intervento della regione Abruzzo. L'assessore Sclocco cosa risponde? Intanto noi non riusciremo come politiche sociali a dare una risposta a tutto il bisogno di inclusione sociale che c'è sul territorio. È necessario che riparta lo sviluppo e che tutti davvero possano fare la loro parte. Se manca il lavoro non riusciremo solo con fondi legati all'emergenza alimentare a far sì che ritorni lo sviluppo. È un lavoro di tutti complesso. Questo patto impegna tutti, dalle università ai sindacati, alle istituzioni e alla regione che poi metterà anche dei fondi propri, in questo caso con il Fondo Sociale Europeo, per fare piani e progetti che rispondano alle esigenze di inclusione sociale. È una regione che ha molte difficoltà in questo momento. Abbiamo sentito tutti i dati ultimi dell'Istat, quindi anche la regione Abruzzo è colpita profondamente dalla povertà. È necessario mettere in campo azioni come questa. Ripeto, perché non è possibile che un assessore da solo risolva il problema della povertà. Ma l'assessore alle politiche sociali deve necessariamente lavorare con l'assessore allo sviluppo economico. Se non riparte lo sviluppo, se non si rimettono in moto le aziende, le industrie, le imprese, naturalmente la povertà aumenterà.